Un fitto dialogo in cui si è parlato di comuni, infrastrutture, ma soprattutto valorizzazione e promozione delle eccellenze italiane in tema artistico. Certo, si è parlato molto di patrimonio culturale e di turismo e il tema del giorno, il tema di questi anni. È un tema che ha bisogno sostanzialmente di scelte profonde, che già sono in moto, però vanno perseguite con convinzione. Prima la programmazione di lungo periodo e una politica coerente di tutto il Paese. All'interno poi di questa politica coerente del Paese, di promozione del sistema Paese, di infrastrutturazione, di destacionalizzazione dei flussi turistici, ogni regione, ovviamente, ogni ente locale può fare la sua parte anche differenziandosi. Ma l'importante è che il sistema Italia riesca ad avere un posizionamento internazionale ben comprensibile, ben identificabile. Il momento è buono, sappiamo che ci sono tutta una serie di regioni internazionali che ci permettono di intercettare flussi turistici, anche i sospettati, ma dobbiamo approfittare del momento buono per investire, per avere maggiore consapevolezza del nostro patrimonio e di spostare un po' quella gelosia del patrimonio che abbiamo sempre avuto, anche come amministrazioni, invece di metterlo veramente a disposizione dei cittadini. Perché l'entusiasmo dei cittadini e della consapevolezza del proprio patrimonio è lo strumento principale di promozione anche di un luogo. Cioè se uno arriva qui e trova la luce degli occhi e dell'entusiasmo del cittadino, poi avrà un'esperienza positiva. E le esperienze sono quelle che i turisti oggi cercano e chiunque fa economia ha bisogno di questo. Non è solamente il bel albergo, il parcheggio facile o quello che può essere. È proprio l'entusiasmo di chi ci vive perché uno percepisce di essere un luogo unico, come credo che il nostro paese e questa ragione sia.